Ti comincio con la stessa domanda che ho fatto a Zappella, state prendendo spunto da queste macchine per correre tanto su quella fascia di destra? Eh sì, magari avere questi motori qua, comunque sì, diciamo che prendiamo spunto e speriamo di continuare così e di mantenere questo stato di forma che è importante per il nostro modo di giocare. Un mese più o meno tra campionato e Coppa hai già realizzato due gol, te l'aspettavi questo tuo inizio personale? Guarda, diciamo che ho lavorato molto per far sì che, per incanalare questo inizio di campionato. Ecco, i miei compagni mi danno una grande mano, ci diamo una grande mano tutti insieme e quindi diciamo sono contento che questo inizio di campionato sia partito così, spero di continuare. Da braccetto di destra, poi in Coppa Italia a secondo tempo sei tornato nel tuo ruolo per quello di esterno. Con Auteri avete parlato, adesso ti giocherai il posto con Zappella, con il rientro anche di Ganes in grosso? No, guarda, io sono completo a disposizione, lo siamo tutti, quindi posso ricoprire più ruoli come altri giocatori in questa squadra. Come ho già detto, nasco come quarto, ma mi sto comunque appassionando al ruolo di terzo, poiché ho la possibilità di imparare un ruolo nuovo e ogni giorno tante cose nuove.